potere pelato potere peloso come va? come va? come sono orribili Alexa accendi i led prendiamo anche il microfono rossi siamo emotivamente instabili Alexa led indaco come sei sofisticato in questi colori sai che ieri mi era morta Alexa tu mi è morta proprio male perché non capivo perché non andava stavo facendo da mangiare ho fatto next timer due minuti non capisco e ma che è successo? è saltato il wifi non capisco poteva andare peggio non era così alla fine era proprio un Alexa a livello globale e quando è successo? ieri alle 8 no un po' più tardi non l'ho usato per fortuna aspetta che non si vede lo sponsor non lo sponsor lo metto qua oh c'è lo sponsor non è sponsor in realtà però facciamo le cose simpatiche hai visto il nuovo Ghostbusters? ho visto il nuovo Ghostbusters ti è piaciuto? si però mio dio gli scrittori americani dovrebbero trovarsi un lavoro vero che cazzo vuol dire? vuol dire che sei un fan di Ghostbusters per cui è divertente vedere i personaggi che ami il film alla fine ha tante battutine carine e simpatiche però mio non c'è scritto allora partiamo dal presupposto si Ghostbusters è il mio film preferito si non andare a vedere io ho visto il secondo e già lì sono rimasto deluso due? il due si ma sono orribile ho visto già lì ma poi scusami quando l'hai visto il due? dopo il primo che cazzo domanda è? quando ce l'ho avuto sette anni? ho capito dopo l'ho visto il secondo ma come no? ce l'ha Vigo vabbè Vigo posso dire che non è sto gran cattivo poi poi sputtano sta cacca di insomma poi il bambino il bambino sta sul cazzo tutti quanti allora la questione è già quello non mi è piaciuto Ghostbusters Legacy ah no pensavo che quell'altro che l'ha chiamato Afterlife ok io non l'ho ancora visto se tu mi dici che già quello tipo non l'hai visto? quello tipo ne lasciamo perdere ok e quindi io sono molto imbarazzato dal fatto che la gente continui a riciccere fuori questi brand che stavano già stavano bene così ma perché devi rovinare? è vero qui però tu fai il classico da fanboy del tipo mi hanno rovinato l'infanzia non è mi hanno rovinato quei soldi lì quella quella possibilità quegli sceneggiatori che stanno lavorando non è che si vado avanti io ma è avanti anche tu perché tu sembri gigante io sono qua tu sembri gigantesco non mi rompre i sceneggiatori stavo dicendo che stavo dicendo non mi ricordo più i sceneggiatori potrebbero fare cose migliori invece di lavorare invece di dover lavorare a un progetto che di per sé ha delle grosse lacune strutturali per il fatto di fare un vecchio un lavoro di un giovine potevano lavorare magari a un film nuovo un brand nuovo sembra quasi ormai che si cerca di fare come certe case editrici che vogliono sfruttare più possibili gli affezionados finché non muoiono mentre non vogliono creare giovani lettori nuovi lettori che sono quelli che poi comunque rendono fertile il tutto perché prima o poi i lettori o gli utenti o gli escoltatori muoiono cosa stai inquadrando? lo sto bloccando la tua faccia con la telecamera perché? così perché siamo stanzi sei veramente insopportato però ha un problema questo film eh eh sono tipo eh dodici protagonisti eh se ci sia film corale si chiama sì però capisci che no si chiama film corale ora se tu non conosci film corali diciamo a tutti la tua ignoranza sì va bene però non riescono a approfondire niente tu hai letteralmente a parte che mi fa super ridere perché alla fine c'è eh eh ospiti speciali d'Anna Croyd d'Anna Croyd è in metà film ospite c'è speciale sì tipo special guest special allora no la questione è questa quando tu metti della nomenclatura in un titolo di testa ha una specificità un po' come quando tu leggi brioche alle mandorle brioche con mandorle lì rappresenta una percentuale in con special guest con l'amichevole partecipazione di con l'amichevole partecipazione di per esempio significa che quello lì non è stato pagato dubito che non abbiano pagato Donna Cavalli per fare mezzo film quindi dubito che non abbiano pagato special guest vai a vedere che cavolo vuol dire perché banalmente può essere ma perché ci hanno messo quelli vecchi ci hanno messo lui ci hanno messo Coso Peter visto però letteralmente Coso lì come si chiama Peter mi viene Benkman Bill Murray Bill Murray appare tipo in due scene non c'è mai Bill Murray no appare in due scene fondamentalmente cioè fa le sue due scenette però penso due fondamentalmente cioè nel finale c'è a metà ricordiamolo per favore a Bill Murray ma io non mi ricordi no mi ha sfumato grazie Walter 23 sono sempre bellissimo nella vita aerea una delle mie occupazioni principali essere bello mentre Danacoide è praticamente uno dei protagonisti del film cioè costantemente prima di raccomparso anche in quello con le ragazze non mi ricordo ciao ciao Giulio G93 grande il 3 sì 93 grande che non è 93 il 3 il 3 giusto il 3 non si sa non lo capisco con le ragazze il 3 credo no le ragazze era un reboot sì però vabbè comunque non l'ho visto un momento che era un reboot sì tecnicamente non è come altrimenti ce l'abbiamo che era un sequel no che lo fosse tecnicamente un reboot non credo che non mi ricordo di riguardarlo però non so se dicono che prima c'erano i Ghostbusters non credo perché in questi qui no si vede che non c'è perché c'è proprio continuità da quelli vecchi a quelli nuovi però ma è proprio stupido tutto il film purtroppo il film ha proprio dei problemi grossi a livello di narrazione ma anche questo qui con non so ha proprio dei bucchi di trama cioè nel senso non è buco di trama è proprio il piano del malvagio non ha senso se lui vuole distruggere tutto sì ma come ci arriva a liberare non ha senso tu vedi il film e se gli dici ma non ha senso poi te lo racconto no non te lo racconto che poi è spoiler però non ha se non ha se è questa la tua recensione possiamo dire poi il film è carino perché è divertente ovvio ti emozioni perché comunque sono i personaggi che ti piacciono e poi sono troppi 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 personaggi nel senso che non funziona perché sembra il pilot di una serie tv in cui tu dici ok questi personaggi non sono molto approfonditi nel pilot della serie tv perché tanto ci saranno tutti gli episodi prossimi in cui li conosceremo meglio no no perché a meno che non facciano un sacco di sì a meno che non facciano un sacco di film dopo però poi i film dopo sono uguali poi ci mettono altri 16 personaggi non lo so non lo so però vabbè comunque non è brutto il film è carino se siete fan di quelli che non si incazzano perché se siete di quelli che si incazzano non sono fan questa cosa mi fa cagare perché tradisce l'origine che cazzo devi tradire nei Ghostbusters al massimo non fa l'idea e poi è molto più orientato ai giovani nel senso che comunque la protagonista è la ragazzina alla fine immagino proprio i giovani che fanno per poi volerci nei Ghostbusters zio caro eh l'idea però è quella è cercare di avvicinare il pubblico giovane perché d'altro nel scusa lui il protagonista maschile giovane è il tizio di coso lì Antman che ha tipo 50 anni ma no sta di non è Antman è il protagonista cioè sì ma in questo qua non fa veramente e questo è il problema sono talmente tanti che non c'è uno che dice ah lui è quello che fa e no perché sono tutti troppi comunque quello di Stanger Things c'è il ragazzino di Stanger Things poi c'è la tipina poi c'è ciao Fred volevo prendere un volume in salda per scappare di autismo hai collaborato con l'autore non nel volume dell'autismo ma è il secondo sceneggiatore di Underdogs sì l'ho detto 20 volte Luigi Formula sì è proprio così volta con la W l'ho pure fatto vedere il live perché almeno ieri perché mi è arrivato non ti ascoltano non ti ascoltano sei inascoltato sei inascoltato si vede che la gente non ti ascolta però l'ho fatto via nel video delle uscite sia nella live delle uscite che nel video e non ti ascolta allora li sosteniamo che non ti ascolta scusate il ritardo stavo su Netflix a guardare Mazerunner è un bello bella merda bella merda lo zio Dario di Twitch mi spiace però c'è dei figli probabilmente come vuole avere dei figli non capito tra l'altro la prima c'era Victor Laszlo non aprite questo blog che cazzo è è un creator ci arrivavo fin lì ma chi è che cosa fa ma è nuovo no no è NQBB davvero che solito io quelli che parlano di film li conosco più o meno si vede che mi è sfuggito errore mio errore mio questo blog blog vai no cosa stai NACB NACB non lo conoscevo ovviamente c'è anche il canale YouTube anche Twitch ma io lo conoscevo perché l'ho conosciuto su Twitch ci siamo beccati lì e quindi mi ha fatto eh non lo conoscevo non lo conoscevo perché si gira a fa eh in che senso perché la giraffa non si gira mai perché si gira a fa ah che si gira a fa per cui dara live eh fregget ve lo farò flexare il fregget flex ah che forte questo è perlo questo è perlo non ha una faccia non ha una faccia vabbè ecco qua vabbè siamo un bravo ragazzo e poi c'era anche Roazzi Roazzi ma Roazzi fa ancora cose non lo so cosa fa nella vita poi erano più di bambini non so perché c'erano tipo 10 bambini erano bambini famosi magari erano bambini famosi non lo so figli di famosi c'erano due tizie altissime tu dici già se sarai alta 1,90 perché ti metti i tatti sai che beccato invece io ho fatto Battle Royale perché sapete che faccio stand up non ho fatto la Battle Royale di stand up e non lo sapevo io nel tavolino davanti che poi ha votato per me per farmi vincere c'era un gruppo di youtuber di influencer grossi da 1400 milioni di dollari c'era quello lì c'era quello lì che faccia di acutile fosforo ma non penso come si chiama è uno oggi di chiudo dove risolvere i problemi continui al lavoro no 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 ragazzi io sono veramente distrutto fregati ti vogliamo a LOL ma in realtà Paolo Cellammare ha fatto il mio nome a quelli di Amazon che non mi hanno ancora preso quindi non lo so papi paci sei allora va in Amazon no però non si può sapere magari nella prossima edizione di LOL come si chiama LOL sì che bello è un programma che a me non piace però per esempio io sono molto amico di Loris Lunanzio che ha vinto LOL Talents Loris sembra al teatro Leonardo a lavorare è un attore che ha vinto LOL Talentshow e poi è dato a finire a LOL io sono contento perché è una persona che a teatro ho sempre visto ha fatto di merito di più infatti appena l'altro giorno quando ero in giro con Dan e Curo abbiamo incontrato un comico incredibile io non me ne ho detto chi fosse chi è che era Dan sarà Leazzaro chi è Dan dove sta Dan Dan come senza paura ci scriveva quello della giraffa ah grande Umberto TVB ah cosa se ne è andato c'è un grande ah no c'è ancora era solo Luca Ravenna ah Luca Ravenna è tipo uno dei comici di stand up più famosi adesso cioè lui Edo Ferrari è andato alla prima edizione di LOL Luca Ravenna sì avevo visto lì ma non me lo riconosce non avevo mai riconosciuto poi mi hanno fatto notare ah sì sì mi ricordo che avevo visto quella di LOL prego ti sarebbe interessante avere un tuo voto al video acquisti Panini di Umberto secondo me è sul 7 perché che cazzo hai comprato cosa hai comprato non so vanno a vedere ho comprato un sacco di cose Batman Batman eh Batman è bello Batman è bello ho comprato eh lobby mutanti poi ho comprato cose infatti dall'altro giorno esistono ancora roba X-Men che tu non c'hai sì ho comprato l'omnibus di Wolverine che Wolverine? quello di Clermont familiar ah grande Clermont che è simpatico che è Clermont patatone patatone credo che nell'episodio di oggi di X-Men a un certo punto appaia Clermont io non l'ho ancora visto com'è questo X-Men 97 bello? quello di oggi era molto ispirato all'inizio del gioco di Morrison con un po' di tiratina anche a Caracola in realtà fregge oggi mi aspetto che consiglierai show showman killer no non lo consiglio Jodorowsky oggi voglio fare due cose negli estremi che saranno una roba molto pop una roba molto poco pop aspetta che rispondo a Dan no Dan non ho ancora preso un cazzo questa settimana non sono ancora stato in fumetteria il Kama Sutra no non consiglio il Kama Sutra perché non è né troppo complesso né troppo pop il Kama Sutra è in mezzo il Kama Sutra pop poppa sutra poppa sutra anche dovresti fare stand up lo sai mamma mia tu mi fai ridere un sacco veramente mi stai proprio mamma c'ho che è andato miuro là e me ne metti aspetta ma si ma si perché prendo se mi mouse perché c'è un mouse dal lato dal lato tu sei proprio strano perché questo lo uso di più per controllare questa cosa qua che forte che forte Kentaro Merola non fa ridere Dan ovviamente con Steelbox Kentaro Merola ma comunque le Steelbox chi se le compra? un sacco di gente però c'erano 2000 a un certo punto era ieri a un certo punto era ieri è così un bell'incipit per un racconto a un certo punto virgola era ieri credo che è uscita la Steelbox di Berserk va lo sito panini per vedere una roba 2600 persone in coda 2600? per fare che? per comprare la Steelbox di Berserk ora non so se l'hanno esaurita oggi ma ieri a ieri notte era ancora disponibile se vuoi io guardo no posso fare così a sfufo scrive a sfufo non lo so dici sempre a sfufo dici a sfufo è lui ah ok non c'è più mi sa che è finita e non la vedo più disponibile cosa sto vedendo? cos'è quel rainbow questa è quella roba orribile rainbow cos'è? rainbow high ma è una roba ma che sono giochi ma zio carmine ma cos'è questa? che cosa bro prodotti cioè bustine figurine ragazzi basta le bustine ditti no alle bustine non c'è più è tutto finito tutto finito ancora disponibile ma si vede che non è più nelle uscite guarda la D&D dice che lo chiamavano per prenotare la steelbox ma veramente ma perché ma cosa c'è la steelbox a parte essere una steelbox niente fa schifo ma qui da instagram vediamo se c'è un link è Dao Usoi è la comica buttalo via che è Dao Usoi? famosissimo irreprensibile non è la facciata Dao Usoi no non lo so sì volevo questo vedi che sta qua è disponibile non so perché non ci si arriva più 25 euro non so perché non si arriva più dal coso ma siete dei cretini però rimettetela dentro perché sennò come ci si arriva grandissimo editore grandissimo editore panini siete sempre i migliori comunque è ancora disponibile 25 euro ieri c'erano 2000 per su immagina quante ne hanno stampate oppure non le hanno nemmeno messe con un limite semplicemente tutti quelli che la comprano è disponibile e poi le stampano cosa molto probabile vabbè ma Truboi se la vendi a 50 euro su ebay ed è ancora disponibile non sei schifoso sei correttino è diverso ma io ci godo in realtà è un bene che succeda perché io spero che continui a essere disponibile e queste teste di minchia hanno buttato i soldi ti sta incattivendo lo sai ti sta incattivendo sì perché il mercato del post chi compra le robe apposta per rivenderle è una persona di merda perché lo è perché è il motivo per cui poi è difficile avere le cose da collezionista perché ci sono gli stronzi che le comprano al mercato per rivendersele e non è una cosa bella e secondo me più questi soldi buttano sta gente qua più sono contento ti stai incattivendo come quello lì da pubblicità tipo spesa difesa visto la pubblicità di spesa difesa spesa difesa il nostro la nostra spesa è attaccata dall'inflazione arriva spesa difesa tu sei tipo spesa difesa ma va in tv questa cosa sì lo sai che io non ho la tv e quella roba che cos'è non è il decoder freggete che ne pensi del nuovo cofanetto ultimate cos'è il nuovo cofanetto ultimate non c'è più importanti della serie ma veramente che cos'è sta cosa sai che è uscito ultimate spiderman varian sì sì a che spettro è il volume mi sono attaccato gli spillati costano troppo non ha senso lo spillato non è vero che non ha senso non ha senso in Italia ora non ha senso comunque perché comunque costano comunque tantissimo anche se non li compri in spillato avrebbero senso solo i volumi deluxe da 400 pagine sì non è Marvel giusto ho preso Marvel non Marvel panini Marvel maledette spillate mi avete rovinati maledetta panini mi ha distrutto l'aspetti andare lì è una panina di Marvel vai fantastico cofanetto in legno di spiderman con un'altra variante di spiderman ma la cosa più divertente è che tu dici ok ma quanto è brutto a me piace a me piace devo dire ma che cazzo dici come quelli bonelli scusi mi sembrano sembrano quei lavori che tu fai quando c'hai i lobby di intagliare il legno che fai la cosa che tipo con l'inchiostro l'appiccichi sopra cioè zio caro ma è come quello di bonelli sì ma la cosa è Tex ma la cosa è metterci spiderman a me piace io lo trovo carino e poi lei ha dei gusti ma la cosa che non ho capito a parte il fatto che l'hanno annunciato due settimane dopo che sono già uscite le variant tu dici non potevi annunciarli insieme sei stronzo sì sono stronzo ma poi la cosa che non ho capito è perché tu fai uscire questa cosa e dentro ci metti la nuova variant esclusiva per l'Italia sti cazzi la stampa firmata da checchetto che già tu dici ma minchia fammi firmare l'albo a sto punto no e ci metti anche la regola perché così uno se le imbustano l'altro la leggi ma la regola è già uscita da due settimane chi lo voleva se l'è già comprata che cazzo di senso ha cioè non ha proprio nessun senso concordo con te però a nord del vero per un'edizione limitata dovrebbe essere comunicata la tiratura è comunicata sono mille copie che cazzo dice non è bello che ne producono tante quanto sono le steelbox ah le steelbox ah ok ok comunque non funziona così quella tiratura all'edizione limitata Don Flavio quella è un'edizione numerata l'edizione limitata vuol dire semplicemente che non la ristampano in Italia che ne pensi con il barbaro finalmente Umberto ha preso l'omnibus di Dark Horse della Panini allora io non sono che ne ho andato a fantasy è di di con il barbaro io sono fan soltanto del cartone animato che guardavo da ragazzo dove c'era tipo gli uomini serpente dove c'erano dove c'era tipo la fenice se mangiava i melograni andava pazzo per i melograni c'era c'era l'animale che del cazzo il pack di gazzu di quella situazione lì era una fenice che si mangiava i melograni questa cosa non me la ricordo ma ricordo perché che cazzo mangia i melograni che cazzo è il melograno lì ho conosciuto il melograno no comunque non sono grande fan di con il barbaro anzi non lo so tu la consigli la lettura buon uomo ho comprato l'omnibus mica l'ho letto ma poi l'ho comprato l'hai comprato perché? bello in barbaro carbusic io di Conan sono fan dei film di Schwarzenegger vi sono piaciuti allora io li ho trovati carini quando li ho visti ma quando ho letto la biografia this is word of Conan president Trump ma comunque quando ho letto la biografia di Oliver Stone lui raccontava che aveva fatto sceneggiatura e poi questo qui l'ha preso dell'Aurendis un italiano e l'ha redotta a merda l'idea era fare qualcosa di molto simile sia al fumetto ma che avesse un tono più realistico quindi secondo me voleva fare un prodotto alla Nolan che palle no no però tu vuoi fare una roba realistica su Conan il barbaro realistica nel senso doveva essere gore doveva essere tipo uno che così ma era anche un po' ero sottilmente erotico come sono sottilmente erotici i romanzi palpe ma comunque aveva un progetto di come l'ho visto io di come poi quell'anno lì e poi quegli anni lì lui era molto aveva vinto appena un Oscar con fuga di mezzanotte quindi era uno scrittore all'epoca non era ancora regista era uno scrittore che ci dava dentro mi è dispiaciuto non poter vedere il Conan di Oliver Stone vero e beh andata così andata così cioè andata di Oliver Stone come sceneggiatura Oliver Stone che c'è questa cosa qua che il regista si pensa che in realtà fa tutto il montatore fa non è il regista che fa le robe il montatore dovrebbe essere comunque sotto non è che lo decide il montatore il montatore monta scusami è un lavoro fisico in teoria no non è fisico è molto d'artista montato il montaggio sì vabbè ma lo sceglie il regista cosa fa di montare però poi può dargli quelle spesso i montatori mettono la loro mano il regista dice vabbè eh 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 comunque vogliamo iniziare è fitta l'acqua diccia sì sei in cammello sei i cammelli bevono beve la mia acqua beve la mia acqua beve la cumuli sulla gobba beve tutta la mia acqua che gli ho donato con immenso sì sì bevo l'acqua io grazie a me mi piace bere l'acqua lanciala perché devo lanciarla creda tumberg che piange se no dove sta l'altra acqua dove sta l'altra acqua dammi l'altra acqua non ce l'ho l'altra acqua come non c'è l'altra acqua c'è ma se tu devi bottiglia la vai a fare in gula la posso andare a prendere io non c'è il bicchiere non puoi verla posso urbarti una bottiglia ma costano le acque sai ti lascio un euro ok porco zio madonna come fate degli abbonamenti così vi posso pagare l'acqua fate degli abbonamenti a sto maledetto così a me non rompe il cazzo sull'acqua quando ti arriva l'abbonamento ti arriva la bottiglia non si può dire è illegale più o meno non si può dire è illegale fate l'abbonamento perché fa schifo l'acqua del robinetto di Milano a scufo non è vero ma c'è un sapore di merda ragazzi chi mi offre l'acqua da Umberto qualcuno mi ha offrato l'acqua ti ha abbonato qualcuno che mi offre l'acqua è sempre più leggero con questi passi sul mio paramento qualcuno qualcuno ti ha offerto un abbonamento no nessuno ha offerto no offridimi un'acqua ragazzi è perché tu non c'hai gusto vieni da Venezia piccolo vi prego qualcuno sia buonico se almeno mi avete offerto un'acqua si temifisticatore adorate perfect blue anch'io all'anteprima quando c'è l'anteprima? eh mica te lo posso dire segreto di stato veramente mi avete fatto un'anteprima e a me no ma ovvio il cazzo che vuol dire ovvio moschio faccio l'ammare e vedi che mi faccio invitare l'anteprima di perfect blue ah no sta in Giappone sta lui quando c'è quando c'è di perfect blue buona settimana prossima o quella dopo porca puttana non posso usare i miei superpoteri per farmi invitare la prima che messaggio che fa chi può collegare cinefacto secondo te mi invita le prime ma non ci vanno mai quelli cinefacto ma ci vanno le reazioni a vedere i film ah non lo so a quella di Nexo siamo sempre in 5 chi ti invita quello di Nexo io ti invitavo a me quando è stata credo che siano gli stessi che mi danno le robe di Bonelli che mi invitavano a Nexo più o meno perché arrivava sempre da lì allora ragazzi Nexo invitami pure a me a vedere quando si aprì ma poi è di giorno come fai ah di giorno diciamo quando di sabato ma che di sabato di martedì che palle smettere di avere un lavoro vero se vuoi fare l'artista anche perché io non vorrei dirti mi stai facendo troppe cose poi esplode poi arrivi a 50 anni ti viene l'infarto non è che io a 50 anni io spero che a 40 anni fa scrivere e basta questo è un po' il mio piano e ma scrivere poi fai poi fai il commediante poi fai il ma quella roba lì allora se io non faccio più se io non faccio più ingegnere e mi guadagno 8 ore al gioco le 8 ore lì faccio quello che piace fare a me un cazzo quindi faccio le stesse cose di prima solo che ho 8 ore in più King Soldatino d'Artagnan siamo una grande coppia però non possiamo dirlo perché purtroppo siamo un paese retrogrado quindi ancora non si può siamo retargico direi che possiamo iniziare che cazzo applaudo devo applaudire io ok siamo 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 pronti siamo pronti wey ciao patatoni bentornati qui agli indimenticabili il format dove io e Umberto pelati e fumetti vi raccontiamo fumetti dimenticati nel percorso perché magari c'è uscito qualche bel volume che li ha dombrati oppure volumi che non si trovano più e avrebbero bisogno di una ristampa insomma cercheremo di cercare nel percorso cose ci siamo persi di bellissima anzi di indimenticabile e ricordiamoci che questo format qui va in onda in diretta ogni non so martedì mercoledì comunque seguite i nostri social sulla pagina pelati e fumetti twitch.tv slash pelati e fumetti oppure potete vedere in video sul mio canale youtube consiglino richiesti iscrivetevi perché sto quasi arrivando a un milione mi mancano ancora 999.900 follower sì potere pelato potere peloso va bene ti vedo distante ti vedo distratto non mi vuoi più bene come una volta siamo arrivati alla nona puntata e ancora non finirà mai perché c'è sacco di roba le vacanze la fine stagione 1 non ho niente a parte che le vacanze dove andiamo in vacanza quest'anno io andiamo a Riccione no come io vado a me non mi piace sta roba non andiamo insieme andiamo insieme dove andiamo te vai a Riccione vai ma va tipo a te io sto a Milano ma ti baci a te a Riccione secondo me sei figo tipo io tipo sulla panchia sotto l'ombrellone così io posso dirti pagherei anche 20 euro per vederti se vuoi poi pagarmi il viaggio a Rimini Comics andiamo a Rimini Comics con me sotto che guardo la gente male così ma scusami facciamoci invitare Rimini Comics non vi serve uno che guardi male la gente in cosplay un po' zozzo ubriaca vaga io sarei così ubriaca? vabbè Rimini Comics la gente va scusami tu rubi il cazzo che non bevi mo bevi? no non hai capito niente guardo male la gente ubriaca ah quindi perché stai qui con me scusami che sono quasi sempre sbronzo anche in questo momento sono tornato dal birrificio Lambrate strano non l'avrei mai detto perché non hai problemi di over utilizzo di alcolici no no assolutamente no ma parliamo di cose seri siamo qui per parlare di fumetti non di vacanze no non di vacanze perché andando alle vacanze tu non mi vuoi invitare è una cosa brutta ne parleremo in separata sede come se ci vuoi fare due cose ubriacarsi e le ragazze in cosplay ok va bene ho capito però non vuoi vendarci con me è una cosa brutta andiamoci se mi paghi il viaggio io vengo perché sei così alto mi alzami perché sono alto perché non posso essere alto che stai combinando? sono alzato ma stai nano di merda fammi pigli i fumetti e oggi parliamo di fumetti fumetti importanti fumetti che hanno segnato un momento nella storia del manga addirittura? no ah ok mi stavo emozionando oggi parliamo di un piccolo bizzarro capolavoro del manga che si chiama Empedipsaico di cui ho portato soltanto parte dei volumetti perché in tutto sono 24 non mi andava di portarne qui 24 volete notare tra l'altro la simpatica gradazione cromatica ho visto che ora va solo in versione video questo formato che passano dal giallo al bianco credo che questi siano stati per un po' di tempo sul mio tavolo nella vecchia casa dove prendevano il sole infatti sono molto più gialli da un lato che dall'altro ma non è vero ma senti se che l'ho iniziato a leggere soltanto che a un certo punto l'ho droppato mi ricordo perché forse a primo volume addirittura allora alla Empedipsaico perché Emped Multipersonality Detective Psycho che già io darei subito una visione telecamerosa guarda ci facci vedere dottore dottore ci parli ci parli e direi che una delle particolarità del manga sono proprio le sue copertine molto molto inquietanti come potete notare che non si capisce assolutamente di cosa parla dalle copertine però sono tutte super mega e ultra inquietanti questo forse è anche un po' citazionista di Lost in Space anche se non c'entra niente c'hanno sempre le cose con il cervello questo perché perché multipersonality c'è anche scritto no non è vero nei labirinti della mente era sottotitolo italiano non ho idea se anche in Giappone avesse un sottotitolo simile nella mente mi sa tanto di sottotitolo italiano brutto anche a me in ogni caso multipersonality detective perché il protagonista appunto è un detective che soffre di personalità multiple e quindi c'è tutta questa difficoltà nelle indagini però c'è una personalità un po' più si ma come fa a dare una mano a fare che c'è una personalità multiple è perché è matta l'altra personalità è un po' psicopatica e quindi viene ispirata ha questi disegni molto puliti è molto anche stylish potremmo dire e anche molto 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 gov ora primissimo caso che mi ricordo c'era un tizio che piantava alle sue vittime dei fiori nel cervello credo ci sia anche una versione forse addirittura live action di questo sto avendo un flash un flash ne sono abbastanza certo credo che l'avessi in versione illegale tra l'altro forse mi ricordo male ma scusa della chat per fortuna c'è gente esperta sì c'è la serie di tv di takashimike che non è uno qualsiasi è uno che fa tipo tre film l'anno perché secondo me era andata tipo su tele più una roba del genere noi parliamo comunque del 2004 inizio pubblicazione italiana e vediamo se c'è qualche informazione giustamente me l'hanno diviso in manga non potevano farmi un siglio con una singola voce vabbè comunque guarda vedi serie televisiva guarda eccola qua vediamo dove l'hanno pubblicata in Italia forse c'è un individuo di dvd sei puntata addirittura sei puntata solo trasmessa dall'immigrazione televisiva è da Kumaier Film Festival è d'Italia da Zon Fantasy canale satellitare estribuita censurata ad apposite toppe in pixel in dvd dalla Dolmer ma come con le apposite toppe in pixel ma probabilmente c'erano anche nella versione originale toppe in pixel non lo so non lo so chi può dirlo ma quindi come fa a risolvere i casi anche se c'è una ma il problema non è questo in realtà non è come mai far risolvere i casi il problema di questo problema o anche il suo lato particolare è che a un certo punto iniziano ad andare un tantino fuori di melone ma chi? il manga ah ok non i personaggi no no proprio il manga per cui a un certo punto iniziano i personaggi iniziano a scambiarsi le menti inizia c'è questa leggenda di questo personaggio mitologico che pareva essere le ali che aveva contagiato con la sua psiche le altre persone poi inizia a trasformarsi in battaglie mentali nel cervello dei vari personaggi quindi è veramente un viaggio molto molto bizzarro infatti se noi notiamo questo è l'ultimo volume come vedi ci sono cose piuttosto strane puoi notare effettivamente che vanno un po' oltre il giallo che era all'inizio una cosa molto particolare in realtà è che uno dei protagonisti di questo manga appare anche nell'altro manga di Shou Shou Tajima o forse di Aiji o Tazuka aspetta guardiamo e che è quello quello in cui ci sono i tizi che portano i cadaveri cioè ci sono i tizi psichici che trovano i cadaveri e li portano al a Foggia non a Foggia però li trovo vediamo se è lui carriera che schifo questa pagina wikipedia è veramente come si chiama il fumetto scusa non ti ricordo come si chiama il fumetto figurati se mi ricordo procuro qualcosa cosa succede in quest'altro fumetto qua Kurosaji Course Delivery Service che in Italia l'hanno pubblicato si? si si l'hanno pubblicato sempre da Panini fumetto che tra l'altro avevano concluso in Giappone ma poi è ripartito solo che è ripartito solo in Giappone cioè nel senso ha una fine ha un finale ha un classico finale un po' aperto del ci rivedremo un giorno era molto a caso in realtà il fumetto quello che poi in Giappone dopo tipo qualche anno è ripartito proprio ripartito con i volumi nuovi cioè neanche da uno con una nuova stagione è proprio ripartito da noi non è più chi lo pubblicava? Panini è grande il Psycho però l'hanno finito è col 24 ci hanno impiegato un po' perché appunto il primo è del 2004 questo è del 2017 13 anni infatti era uno dei problemi del manga in realtà il fatto che ne usciva un numero ogni boh e quindi diventava un po' di adesso si trova MPD Psycho ti rinnovo questa cosa quindi è un no non mi fare tipo il criptico è Panini i manga di Panini comics Planet Manga vecchi raramente si trovano Planet oggi ristampa un po' però ristampa le cose nuove per cui ristampa le cose conosciute oggi questo è finito ormai il primo 17 sembra ieri ma non è ieri no sono sette anni e quindi boh beh non è rimasto male speriamo che lo ristampi sono dei loro che potrebbero ristampare MPD Psycho lo vedo poco probabile perché è un manga anche lunghino sono 24 volumetti però ci starebbe nel senso che comunque è un'opera sempre attuale particolare con dei bei disegni tra l'altro il problema è che certi manga non li ristampano anche perché non c'è il treno di un anime non c'è il treno di un film tornasse di moda la serie tv però è molto fighino anche perché è molto particolare c'è tutte queste cose psicologiche appunto degli scambi dei personaggi c'è è strano no non mi hai mai convinto io avevo letto il primo numero ma ero giovincello vuoi leggere te lo presto quando l'ho lesso no ma ci penso ci penso è giallo è un giallo infatti è un thriller si vede che è un giallo guardate com'è un giallo che forte tu sei un battutista fantastico il battutista sì avresti rubato il lavoro per fortuna che invece non fai un cazzo comunque dicevamo eh sì tu così non ti fai battute ti devo fare io io mi do cioè ognuno c'è il suo chi vuoi è il mio format essere comico e simpatico tu comico e simpatico comunque vogliamo un attimo dire tu fai sempre fumetti un po' pallosi sofisticati sembra la buzza sotto il naso sì ho questo autore francese morto suicida perché si è dichiarato pedofilo ma poi non lo erano soltanto perché si sentiva in colpa per la madre morta nei campi di sterminio nazisti e quindi basta oggi voglio portare un fumetto pop di un autore pop che però tra i fumetti pop di questo autore pop se ne parla pop pop eh grandi battute tu invece proprio battute che uno non ci arriva no comunque parliamo di MPH sai che non lo vedono poi fai mettere la regia meglio tu fumetti c'è scritto fumetti dove sta scritto fumetti sopra ah ok ooooh battiamo MPH di Mark Miller e Duncan Mph MPH Mark Miller che è famoso per fare fumetti molto leggeri che si prestano molto a diventare film sembra quasi che lui pubblichi degli storyboard di film possiamo dirlo solo che due terzi poi non diventano film anche se si coppano i diritti eh beh non lo dici come i diritti che cazzo si ne frega a lui no la cosa bella è che a differenza di molte miniserie di Mark Miller come tipo Super Ladri che come si chiamava Super Crooks si una non ce l'ho Super Ladri che io ho trovato un finale un po' all'acqua di rose hanno fatto tipo l'anime hanno fatto hanno fatto i cartoni animati hanno fatto che non ho visto perché ho visto il fumetto l'ho trovato un pochettino lebole così come molte altre miniserie altri sono molto belli tipo Ash tipo Nemesis magari potremmo anche parlare però quelle sono già più famose MPH mi ricordo che ne parlano male fu anche licenzito male eppure lo reputo una delle storie più divertenti di quelli di Mark Miller cioè se cercate dei dialoghi profondi non dovete cercare Mark Miller se cercate qualcosa un divertimento spensierato ma non stupido perché dico sempre il discorso dello spegnere il cervello dello spegnere il cervello è una cacchiata il discorso va sollazzato cerchiamo di di sollazzarlo in modo intelligente ora di cosa par MPH MPH parla che a un certo punto nel mondo così a cacchio di cane così cacchio cacchio cazzo cazzo arriva un supereroe ma è velocissimo proprio che fa un bordello che proprio non ti dico lo catturano anzi lui dice mi dispiace ragazzi spero che non ha fatto male a nessuno catturatemi passano gli anni passano gli anni e a un certo punto il nostro catturato questo supereroe anche con Miles Perlauer MPH non mi ricordo no fatti i cacchi tuoi comunque che succede sta storia si poi si va a intrecciare con un tizio che sta in prigione non per colpa sua ma comunque uno che fa cose non troppo dirigenti cioè col suo amico c'è la ragazza a un certo punto trovano questa droga nel carcere che sembra del potere di andare velocissimi proprio 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 come se fossi nel film di X-Men presenti il giugno di un futuro passato quando fai tipo l'X-Men lì infatti insomma si Quicksilver e io parlo anche per quelli che non è il canale c'era anche il figlio di Magneto nel film tra l'altro si si che poi l'ho tolto io cerco di fare un parola a tutti quanti ci sono tutte queste scene che ricordano quel film quindi molto divertente per quello quindi di spettini le cose qual è la questione è che a un certo punto il tizio catturato 30 anni prima dice aspetta un momento voglio parlare con la polizia perché non hai mai voluto parlare con noi che ti è successo ora voglio parlare perché è arrivato il momento giusto e darà una mano alla polizia perché sembra sapere qualcosa di queste pillole ora perché ve lo consiglio perché leggero è divertente e ci sono i viaggi nel tempo che a me mi fanno imbazzire i viaggi nel tempo se li fai bene non fai quei viaggi che puoi fare tipo metti i viaggi nel tempo il multiverso e poi va a battere ma che ti spiega il multiverso ma che cazzo ne sa battere il multiverso ma tu mi devi dire il multiverso è un Michael Keaton tu che cazzo ne sai di multiverso diciamo il multiverso è una questione di cui sappiamo spaventosamente poco no il multiverso è una questione di cui sappiamo spaventosamente troppo quindi quando ti fanno una roba fatta bene con pochi viaggi fatti c'è che hanno un senso perché la trama non devi disperderla per far vedere che sei intellettuale la devi racchiudere perché tu vuoi raccontare qualcosa farei un messaggio e questo qui è un messaggio che ti fa facile in modo divertente ma non in modo stupido quindi MPH se vi piace Mark Miller o non vi piace ma volete leggere qualcosa di leggero secondo me è una delle opere ottime per chi ama il genere superioristico ama il comic americano e vuole leggere qualcosa di non troppo non so se ce l'hai ma perché me lo stai chiede a me che casa tua io non lo so se ce l'hai da qualche parte perché la zona Mark Miller è là da qualche parte vabbè poi cercheremo la zona Mark Miller sei più tranquillo adesso molto sei più tranquillo vabbè quindi tocca di nuovo a me si tocca di nuovo a te hai rotto il cazzo vai vediamo cosa hai portato mi schifo i viaggi nel tempo ma smettila smettila l'ha cringiata con i viaggi nel tempo a Lucky a Lucky cos'è un fumetto? no sfortunatamente vi ho portato un vero cult del fumetto questa volta prima che era un po' particolare questo è un piccolo cult del fumetto supereroistico perché Astro City di Kurt Busiek con i disegni di Anderson e Anderson di cui non ricordo assolutamente il nome bensì non c'è non ha nome è un uomo senza nome come Morgan senza nome no è Brent Anderson e tra l'altro con le copertine e gli studi dei personaggi perché era il periodo in cui faceva solo quello di Alex Ross lo vedete è lui Alex Ross eh sì Alex Ross è proprio così irreprensibile Alex Ross Astro City fumetto della complicato Image poi Homage Wildstone poi DC basta soliti discorsi di Jim Lee che si crea la sua casa elettrice poi dopo 7-6 anni lì a rivendere la DC Comics perché forse è più comodo fare il dipendente non devo farmi non devo sbattermi quindi la Image è stata venduta la DC no ma Wildstone sì non lo sai la storia no no Jim Lee crea la Image insieme agli altri Eric Larson eccetera sì ognuno ha il suo studio Jim Lee Wildstone Mary Clarkson aveva gli iBoost Audios adesso non mi dicono tutti i nomi l'Eyfield aveva gli Youngblood non era così il suo nome vabbè Max Bohr mi ricordo Extreme tipo una roba così era l'Eyfield e Jim Lee tipo nel 98 quindi circa 6-7 anni dopo ha rivenduto tutta Wildstone a DC e non per niente adesso tutto quello che scendisse i comics cioè di Wildstone Wildcats e DC per quello ah non lo sapevo Alan Moore che ha deciso basta io non lavorerò mai più per le major del fumetto apro la mia etichetta all'interno di Wildstone di Jim Lee e ABC Comics e dopo 6 mesi si è ritrovato a pubblicare in DC Comics porello la gioia di Alan Moore ci sarà rimasto male Alan Moore si è incazzato nero credo non per niente adesso è l'autore originale di metà dei titoli e comunque dicevamo foro Alan Moore Astro City di Carl Busy che è una sorta di mega omagione al fumetto di supereroi perché questo è Samaritan direi che evidentemente possiamo già dire a chi potrebbe assomigliare come stile di supereroi Spider-Man si esatto o Birdman anche è un uccello no è un uccello a fianco a il patriota come si chiama Samaritan Samaritan ma in realtà Samaritan non è il protagonista perché questo è un fumetto estremamente corale oggi è la parola del giorno corale perché ci narrerà tutta questa città la vera protagonista è la città in cui si muove tutto un pantheon di supereroi che attraverso le generazioni e i periodi ci narreranno le loro avventure in modo sembra così old school vedendolo molto sembra quei rilanci che hanno fatto negli anni 90 di Spider-Man da primo numero come si chiamava Ultimate Spider-Man no Ultimate Spider-Man prima di Ultimate Spider-Man c'era stato quel rilancio di Spider-Man quello di Byron sì che era tipo chapter one madonna santa che roba brutta sembra molto anni 90 perché è anni 90 ah ok allora vedi che non c'ho occhio comunque lo stile di Brent Anderson è questo è sempre stato questo ed è molto classico ovviamente si rifà molto i supereroi classici ma reinterpretandoli e inserendoli comunque in contesti realistici quindi andando molto sul psicologico sul farci vedere l'effetto del un po' la Marvels potremmo dire d'altronde la musica ed è una serie molto molto bellina una serie molto molto bellina e anche piuttosto sfortunata soprattutto dovina un po' in quale paese Foggia l'Italia ok vabbè falta un sacco di extra eccetera perché l'Italia perché come volete notare dai tre volumi che vi ho portato in realtà ce ne sono molto di più questi sono di Star Comics nei vecchi Star Magazine Oro Star Oro in realtà sì Star Magazine Oro era il 31 ce n'è un altro dopo questo dopodiché i diritti non so se Star non li rinnova presumibilmente ma se li becca Magic che però li fa incartonato e ne fa tipo quattro incartonato poi però ne fa un paio anche no più di un paio tipo tre o quattro roba su rate però poi i diritti di sì vengono poi acquistati in toto da Lion Planeta in realtà prima però Planeta non li pubblicava si vede e quindi poi i volumi successivi ancora sono di Lion mi va detto che non è una singola serie sono varie serie di Astro City nel senso che all'inizio è un po' incasinato perché fanno questa è la prima miniserie completa tra l'altro il volume come ritenutare si sta disintegrando ma questa è una cosa tipica dei fumetti vintage anche se questo effettivamente esiste anche su Amazon in versione cartonata di Lion credo ma si è brossolato non lo so non ho guardato però l'hanno rifatto poi e poi c'è una seconda serie che è quella stampata un po' da Star e un po' da Magic e poi c'è questa serie qua in questi brossurati di Arevo Lion che invece è la volume 3 è durata una cinquantina di numeri ma di cui gli ultimi sono inediti perché giustamente da noi siamo in Italia quindi siamo super fortunati ma perché la Lion è interrotto come al solito suo che faceva non ho controllato sulle date se è una questione che sono arrivate a un certo punto e semplicemente hanno chiuso però secondo me è andata anche abbastanza così perché il rilancio di queste è in New 52 per cui è molto probabile 50 numeri andrebbe visto probabilmente uscivano anche non è che ne facevano uscire uno ogni mese per cui potrebbe tranquillamente essere che li hanno interrotti perché banalmente hanno perso i diritti e poi Panini ha detto povera Astro City quindi speriamo che possano ristamparlo è una serie molto bellina in America esiste ovviamente Panini e di sì e adesso a un momento esistono in America ho guardato esiste sia la versione in brossuratoni quindi sono usciti cinque che completano quasi tutto cinque brossuratoni da 400 pagine penso se ne dovrebbe uscire un altro immagino guardando i sommari e esiste anche in uscita fra pochissimo tipo omnibussone con la prima metà della serie quelle robe che tipo se ha preso il ginocchio muori tipo omnibus no 1100 pagine sono un omnibus standard però in America ci sono speriamo che arrivi anche da noi scrivete sotto le robe di Panini meno steelbook più omnibus esatto scrivete sotto Panini pelati e fumetti e fracked ci hanno detto che nei vostri diritti di DC Comics c'è anche Astro City che è un gran bel fumetto estremamente importante e interessante e che va appunto ad approfondire a rinverdire il mito del supereroismo americano cioè sono proprio quei fumetti molto di approfondimento e di classicismo riportato alla modernità che secondo me sono molto interessanti e Astro City era veramente bello e apprezzato ai tempi io mi ricordo che quando uscivano i primi di questi che non avevano mai sentito parlare da nessuno di quelli recenti però i primi erano veramente 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 belli io quando lessi il primo ci rimasi molto sotto infatti poi mi ricopriamo tutti quelli che uscivano quando poi arrivavano quelli magic brutti senza la grafica di copertina ho detto bello in realtà ho visto su come xbox esiste anche con una grafica decente forse questo è tipo la variant non lo so 22 mila lire costa perché all'epoca erano un sacco di soldi vabbè erano 11 euro no erano 22 euro diciamo le cose come stanno l'inflazione ci ha uccisi in realtà non costano 22 euro questi oggi costano 28 euro no questo è piccolino non so quante pagine siano ma vediamo se c'è il numero di pagine o è un fumetto alla panier no c'è le pagine grosse c'è i disegni a tutta pagina tra l'altro c'erano anche i personaggi a cartone animato perché appunto è un mondo molto estremamente particolare e ovviamente in ogni saga mini saga affrontava personaggi diversi con ovviamente sottofondo comunque sempre quelli classici che apparivano tipo c'è il buffone che non è cattivo è buono in realtà era molto certo tipo il fantasmone piccato estremamente bello perché poi piano piano andavano ad approfondirti le origini e tutte le particolarità dei personaggi una gran bella serie l'hai letta? no non l'ho mai l'ho sentita guarda di Carl Busiek Carl Busiek secondo me è uno dei migliori scrittori americani di sempre anche più bravo di no più bravo di Grant Morrison Grant Morrison è diverso Grant Morrison è il creatore di fumetti estremamente estroverso e particolare no perché è inglese lui sì eh t'ho fatto a battuta eh del fumetto USA eh e Warren Ellis è inglese pure lui è inglese pure lui eh sì ti faccio le gag sono uno scherzo perché non si è letto in Inghilterra dove non dine frega un cazzo che si Gar Tennis Gar Tennis è meglio di Busiek Gar Tennis ma Gar Tennis è tipo Morrison se un Morrison e un Gar Tennis potresti confrontare sì ma Gar Tennis è irlandese non è americano sì vabbè però sempre sempre anglofono eh che palla però tu hai detto americani ti voglio prendere per il culo posso prenderti in giro fumetto americano dai su anche Alan Moon scrive il fumetto americano alla fine gran parte lo scrittore originale scrittore originale ricordiamoci ma dipende in alcune cose c'è il suo nome in altre no oh sì ma ci sta invece torniamo a fare i profumati no di nuovo cioè guardate questo questo manco ci sta su nell'inquadratura è un fumettone enorme ragazzi guardate la mano guardate la mano è gigante la mia è molto più grande no vado a fare il coglione mette la mano giusta vedi quando è grosso 676 apparizioni di Killhofer chi è? è un comic book eh sì ragazzi Killhofer ragazzi visto che sono risconti Coconino è Coconino sicuramente tutti gli youtuber hanno fatto i loro video vi consiglio le robe di Coconino sì l'ho fatto in effetti tutti quanti hanno fatto i consigli le robe di Coconino sicuramente 676 apparizioni di Killhofer nessuno ve la consiglia io gli voglio bene a Coconino però non ho molta esperienza dei loro fumetti purtroppo no bisognerebbe dire Coconino noi siamo qui ve li parliamo noi chi è Killhofer? allora a parte che questo volume è fantastico chi è Lettona? ha Lettona a caso proprio è gigantesco Killhofer è l'autore e questo è un fumetto biografico dove però noi vediamo siamo davanti siamo dalle parti di Island Empire di Lynch per intenderci il flusso di coscienza fatto bene ora il flusso di coscienza fatto dagli autori Joyce non si è inventato lui il flusso di coscienza sì no io parlo di cinema di fotografia parlo di messa in scena parlo io no sì ho capito il stream of consciousness sì però è una mia amica si chiamava Joyce di nome ma cosa c'entra? niente vabbè comunque diceva non mi ricordo più che cazzo stavo dicendo flusso di coscienza flusso di coscienza perché siamo a sei lati di Island Empire in questo fumetto vedremo un personaggio che vivrà le sue paranoie queste paranoie diventeranno visibili è una storia difficile sì è una storia che potrebbe aprire un sacco di punti esatto punti punti tipo punti di come si dice tuttura tuttura sì ha diverse chiavi di lettura non c'è un finale chiaro è un fumetto che vuole confondervi e ci riesce benissimo soprattutto è un fumetto sperimentale a livello grafico io ovviamente è uno dei fumetti che ho preso un'ispirazione per Ramiro c'è una scena che ho proprio mi ha totalmente colpito che ho voluto metterla anche nel fumetto Ramiro che comunque è un atto d'amore verso gli altri fumetti del peggio delle IA non è facile non è facile fare flussi di coscienza senza essere o retorici o inconcludenti è capitato che a un certo punto c'è stata una valanga di autori giovani che voleva fare fumetti underground magari erano pubblicati da Major che puntavano subito sul flusso di coscienza come se fosse una cosa facile da fare un po' come Gaspar Noé che ti fa void senza essere bravo come Lynch per fare un flusso di coscienza devi essere bravo a narrare altrimenti soltanto sbrodolio solo un lucignolo che si muove cioè lucignolo in testo di programma brutto con la telecamera che si muove a cazzo vediamo il nostro kickoff vediamo i ragazzi che si danno fuoco ai piedi killoffer lui sperimenta con la tavola vediamo che diventa proprio un racconto con diverse sue apparizioni lo vediamo in stile molto De Luca qua possiamo vedere proprio lui che appare diverse volte nella scena come De Luca per dare dinamicità a delle scene ferme e poi vedremo man mano che questo suo conflitto interiore diventa proprio un conflitto un po' di psycho anche lui è davvero un fumetto è un fumetto che è fantastico da vedere da vivere perché come i fumetti che sperimentano è un viaggio che non sapete ancora vi porterà perché è nuovo sembra io a casa questa è esattamente una scena che io ho voluto citare in Ramiro quando c'è il Giorgio che si cambia non so ti ricordi sì perché banalmente io l'ho trovato di una spettorializzazione molte scene mi sono rimaste impresse perché non sempre serve una trama complessa a raccontare storie complesse in questo caso la trama è molto semplice ma quello che viene raccontato è molto denso ci metterete tanto e vi soffremete sulle tavole perché la cripticità è voluta per permettere a voi di fermarvi un attimo e cercare di capire la storia è un volume difficile ma non antipatico non è antipatico non è antipatico ed è soprattutto molto divertente da sfogliare perché non sapete mai che cosa può capitare nella tavola successiva Killhofer ha già fatto un altro volume sempre scomodo perché è in formato che è grande no invece è in formato in stile tipo pallone esatto devo ancora leggerlo spero che io lo comprerò con risconti coconino sicuramente quanto dura risconti fino a che giorno non lo so ma non molto ancora credo prenderò sicuramente Killhofer la versione quella di nuova e quindi io vi consiglio se volete vedere cosa può fare Medium Fumetto cosa può essere utilizzato ancora per narrare attraverso questo Medium 676 apparizioni di Killhofer è il volume che vi consiglio volevo chiederti una cosa dove lo tieni? lo tengo in libreria ci sta? si ci sta proprio zicco zicco come si dice è bello alto si si io ho Billy la libreria dell'IKEA che permette di scegliere come ho fatto io ragazzi quando uno ha un volume scomodo la gente si deve un attimo attrezzare bisogna fare queste cose bisogna essere capaci capaci di trovare posizioni giuste per i volumi giusti perché se un autore è scomodo come in questo caso noi dobbiamo mettere nelle posizioni comode noi siamo noi appassati di fumetti mettiamo ordine dove c'è il caos nel caos io metto caos nell'ordine no? si è andata così comunque la puntata finisce qua sono contento di averti ancora qui dove nuove puntate ci vediamo per la decima puntata fra due fra due settimane io vi dico ricordatevi che la puntata la potete vedere live su pelati e fumetti ufficio.tv pelati e fumetti altrimenti la potete vedere indifferita sul mio canale youtube consigli non richiesti vi riconoscete perché sono io che leggo un Dylan Dog disegnato quindi non vi fate vedere vuoi dire qualcosa che salutiamo ciao ciao condividete la puntata che cos'è meno si spammatela che così diventiamo famosi e non dobbiamo più lavorare e possiamo stare qui a parlare di fumetti Cocconino ci manda Cocconino mandaci i fumetti mandaci i killoffer mandami quello nuovo di killoffer che cos'è meno ne parlo qui ecco se ne parlo se me lo dà mandate da un po' ciao a tutti bene siamo tornati con voi qui per voi c'era un messaggio sopra di una persona che ha pagato per un messaggio capito però se stiamo a registrare ciao ti volevo chiedere cosa ne pensi della serie sia del fumetto di Invincible che è molto bello è dietro di me in questo momento per cui non si vede ma normalmente è qua cioè esattamente qua dove c'è la mia panza in questo momento ma spostati faglielo vedere scusse ma madonna è esattamente qua oh che bello ma tanto se ne sarà andato va bene rispondiamo poi recupera la puntata non era pagato era il primo messaggio della chat ah il primo messaggio della chat io l'ho letto mi sono innamorato grazie è molto bello devo dire che rinfresca un pochettino quell'immaginario un pochettino vecchio infatti l'ho trovato fantastico nella lettura un fumetto che non annoia mai e per fortuna è una conclusione piuttosto di darlo in mano a qualcuno che non apprezzava lo spirito io vedo molte run devastate dal cambio di gestione e questa cosa è molto non accettabile nel punto di vista del fumetto seriale però va bene te lo concedo allora se uno deve fare una run la deve finire ma quello si molto spesso succede che uno viene tolto a metà run o quando ancora non l'ha finita perché magari va male oppure pensa Ickman Ickman se n'è andato lui no non se n'è andato lui non ha cagato il cazzo perché non è che se ne va cioè lui c'erano i piani doveva finirlo l'avrebbe finito cioè stai imbastendo cazzo non si è andato lui dai non si è andato lui perché si è andato lui scusa secondo me si è andato lui perché si è andato lui sentiamo ma perché poi si è messo a fare le carriere i suoi cose appunto dai stai anche facendo Ultimate Spider-Man soltanto per poter fare la sua cagatona di Goz scusami ma la sua cagatona di X-Men non era una roba tutta sua ha fatto il cazzo che voleva sì però secondo me col fatto che gli hanno associato 700 persone attorno che facevano si scrivevano come dei cani e quindi lui si è lotto le palle secondo me però poi chi lo sa se me l'ha mandato via perché a cazzo ti danno i giocattoloni e ci puoi fare il cazzo che vuoi ha fatto veramente il cazzo che voleva con l'X-Men scusami perché andarsene via e perché allora mandarlo via l'hanno mandato via secondo me perché a un certo punto c'è Nakba che è Nakba ciao Nakba chi è Nakba? è sempre quello di prima che ti dicevo di Gitan di chi? lui ce l'abbiamo ancora qua sullo schermo è lì ah ciao Nakba ah ok ok ci ho parlato di te sì perché l'ho incontrato ieri qua è con lui ah Ghostbuster grande Ghostbuster grandissimo film ne abbiamo parlato benissimo è viva conosci anche lui fa cose cinema io faccio cose cinema Nakukup è frect mi rito in faccia mi rito in faccia fa bene mi rito in faccia ma cosa c'è ma si può ma è bella educazione ma tu fai il comediato si ho capito ma io mi sto presentando e questo mi rito in faccia fai stand up e ti rito in faccia ma siamo arrivati a questo siamo arrivati cioè io non lo so io sto qua faccio anche il gentile faccio anche il gentile e questo mi rito in faccia non lo so io devo tornare a essere cattivo lui è simpatico lui saluta non come Victor adesso non volete ma anche i killer salutavano sempre Victor no ah si Victor Lasso salutiamo Victor Lasso che tanto non ci saluta ciao Victor ciao volevo dire a Victor se mi saluti la Svet però salutavo che cosa che cosa cazzo hai appena detto la Svet la ragazza di Victor ah ok perché la io non seguo penso stiano ancora insieme lei mi picchia in genere quando mi incontra come che senso ti picchia mi picchia mi ti dà le spallate in genere ma lei lo sa che lo fa si 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 apposta e tu se li rispondi no niente si picchiano le donne no capito non si picchiano le donne però direi qualcosa mi scusi signorina lei per caso mi ha urtato non è questo rapporto un po' violento cioè lei mi picchia e basta ma com'è che è nato questo rapporto così a caso no io intanto la seguivo in live poi ci si è vista ogni tanto alle fiere l'ultima volta che l'ho vista tipo a Lucca mentre io stavo così mi sono venuto una spallata addosso ed era lei che mi guarda e mi ride queste informazioni sono molto interessanti continuo a parlarmene cioè come è andata avanti mi manda i messaggi no no è che siamo amici cioè quelle cose che agli eventi ci si saluta qui gatta cicogna no è un altro caso Ferragnez eh vendiamo i pandori no cioè ovviamente nel caso Ferragnez possiamo dirlo adesso noi non siamo terapiattisti ora noi non siamo complottari no ma si sa che non è come ci dicono io non so un cazzo eh neanche io non so niente però è bello va bene vorresti essere urtato anche tu Frecht a me non mi urta nessuno ma non è vero è sempre in giro con una diversa ma ogni volta che essere amico di Frecht vuol dire che lui ti dice la mia vita sentimentale è un disastro non vedo mai una donna però quella con cui sono uscito l'altro giorno è così adesso è detta così adesso non mettiamo le cose online no comunque ma non è così non ho detto sto scherzando romanticizzando le avventure della vita di Frecht diciamo che da quando lo conosco ogni tanto è successo ognuno ognuna è speciale come no ma non sto non è Frecht come vedete non è proprio quello che va in giro però rispetto a come te la racconta nel senso se io vi dico non è si si diventa rosso e sorride in modo imbarazzato ma puoi dirlo tanto sono in eh si 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 e non mi ricordo più cosa stavo dicendo meglio così meglio così mi imbarazzo no mi imbarazzo non ti imbarazzare no comunque bisogna parlare della propria vita privata sono i social no 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 che magari nel senso io io esco con le persone io non esco con una donna dal 74 stranamente sembra che abbia del fascino sembrerebbe io no tu che cazzo c'hai tu ma che cazzo ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo anzi ma scusi ma perché non ti tinderizzi ma ce l'ho Tinder sai tinder ovvio che cazzo di foto hai messo fammi vedere nessuna non mi farò gestire su tinder data fact no allora allora prima di tutto devi avere sei foto su tinder la prima sei foto tutte e sei devi mettere ok tutti in situazioni diverse tu si fai vedere che tu esci ma io non esco fatti cazzi tu hai vuoi sistemare tinder no ma io voglio che capiscano chi sono sennò mi rompo il cazzo no 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 allora funziona così tu metti una foto dove si vede che sei alto devi scrivere su o anche ing l'ho fatto cos'è ing è uno nuovo guardacelo qua ma è match intanto se metti le foto zio caro ma certo che ce le ho le foto guarda c'ho ing che foto hai messo ti prego fammi vedere le foto che è me non la faccio nella chat questo è ing vedi ho queste foto bellissime guarda ma porco zio hai messo una foto con lo colso bianco dietro ma cos'è sta foto qui ma no 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 poi tu scusami poi queste foto qua uno può pensare che tu sei ciccione invece devi fare fai la foto tu hai un bel fisico no non la panza sei un bell'uomo ma che bell'uomo abbina uno spunto a una foto tu devi mettere nel cavolo di foto e tu ti si vede tutto sembra anche un po' pompato guardami si sembri pompato ma ti devi fare una foto che siete tutto perché se uno non vede dici strano come mai non so che foto ho su tinder aspetta che guardo non lo guardo da anni che è lisa 43 non lo so togli ma che stai chattata perché no no chat io non mando mai messaggi perché grande non funziona più è molto tinder lo riavvio questo dice a me poi invece c'è tipo le chat no 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 le chat io non scrivo mai perché non so che cazzo scrivere quindi non scrivo scusami se uno match come fai a uscirci non ci voglio uscire infatti guarda c'è un sacco di foto bellissime ma che ti metti perché hai messo una foto di lovecraft zio caro non so così a cazzo ma sono io sì lo so che sei tu però perché perché non lo so perché ho messo una foto con il simbolo della cocca con il simbolo della bicocca no la bicocca è la cosa la metropolitana di Tokyo no bisogna di farti profilo bisogna pimpare il profilo pimp my profile ok no veramente le basi una foto a petto nudo non è proprio il caso Gemini devi scrivere vuole vuos lire BD avec moi vuoi leggere BD con me BD ma perché BD perché non il Gessander ah ok la francese zio carmine le foto di Johnny si mi siamo un'ottima idea si siamo un po' uguali ma che i pelati sono tutti uguali come quelli che c'è i capelli lunghi non mi fai ridi il fatto che se mi riesce i capelli così la barba siamo tutti i capelli alla barba come quelli pelati vengono tutti scambiati per i pelati vengono sempre scambiati da quello con la barba e i capelli lunghi quindi c'è uno si e c'è Gesù e poi c'è Alan di notte dalle ore la foto di Gesù sei proprio tu quello si quella foto lì sei tu ha preso la tua immagine è un IA che ha creato quell'immagine e ha trovato una tua foto l'ha presa sì sì quello è vero è vero Gesù ultimamente se avete beccato dei volantini di Gesù sono io è lui forse è giusto un filino più magrino cioè proprio come impostazione di faccia però dimagrirò dimagrirò cercherò di no ma è questione anche di ossea proprio tu hai la faccia abbastanza tondina è leggermente meno tondino ciao ragazzi buonasera buonasera ciao divulgo Giulio diluvio Giulio 005 scusami tu mi stai dicendo un diluvio Giulio 001 un diluvio Giulio 002 forse lui è Giulio di Vluvio cognome nome e cognome nato nel 2005 ah domanda perché mi dice possibile illusione dal ban però lo dice anche a me perché sarà uno che è stato però è sub non lo so boh perché l'abbiamo bannato bella la maglia sarà Bojack esatto bravo umbe sei Bojack ma non l'ho bannato Bojack in effetti buonasera ragazzi ma la puntata dell'X-Man uscita oggi poi domanda che domanda è vero Red è una bombazza ma poi hai scritto bene questo X-Man ho scritto bene una serie tv di mezz'ora episodio e poi ho scritto bene su tutti gli episodi vecchi rinixati cioè sono tutte le storie di Claremont e company rimixate cioè scusami ma non era già la vecchia serie così non è la stessa si è fatta un po' meglio cioè scusami con un target devo rivedermi la vecchia serie per vedere questa qua no non devo vederla perché te ne ricordi i personaggi me ne vedevo da bambini si ok Gambit si ti ricordi si Rogue si la bestia si Clope si Jean Grey si Xavier è morto no si dietro le quinte quindi Xavier Magneto te lo ricordi si poi che cazzo c'è ancora Morph c'è solo nella serie è il tizio che cambia forma non ti serve se neanche sei vecchio cioè nel primo episodio tipo muore però poi negli episodi dopo torna a un certo punto perché l'aveva salvato sinistro poi tornano e all'inizio c'era anche Alfiere però Alfiere se ne va nel terzo e secondo episodio Alfiere si quello inutile personaggi inutile che si è fatto vivo soltanto dopo scisma non è vero appare la prima volta negli X-Men no 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 appare in maniera tipo importante che cerca di darsi un tono che deve salvare Hope di quella che deve ammazzarla si salvare ammazzarmi ma perché fino a fatto è ancora lì e dove in Calacova ho capito adesso di dobbiamo leggere tutto il ciclo suo ma a un certo punto nella saga vecchia che sto finendo leggere ancora prima di passare a quello di Hickman a un certo punto sparisce dove cazzo se ne va non mi ricordo in che momento stai dicendo nel momento pre-Hickman pre-Hickman ma pre-Hickman tanto non conta un cazzo tanto pesettano tutto cioè letteralmente la gente mi ha detto ma io non posso iniziare da Hickman devo assolutamente leggere le cose prima le cose prima di Hickman sono esattamente queste storie qua che finiscono così dichiariamo guerra gli X-Men sono sempre stati in guerra come lo collega l'inizio di Hickman in nessun modo perché Hickman tira una linea cioè non gli frega un cazzo di quello che è successo prima ovviamente i personaggi sono quelli per cui i personaggi ci sono che cazzo di video ti farei tipo di fare un ma è stato la rocca quello lì è stato la rocca quello guarda quando ho disegnato in mezzo dalla rocca dicevi? no io sto leggendo quello lì di ciclo si hai ragione carvino fuori personaggio al fiero in quel momento non so perché l'hanno scritto così psicopatico che si taglia un braccio e ci mette una macchina del tempo dentro per inseguire a down e ucciderla oh così a casa infatti poi nessuno ne ha più parlato di quella cosa tipo si sono riviste certo eh si con l'hanno un po' resettata se non fosse mai successa no ma è un peccato perché un autore decide di interrompere una run così adesso io do ancora fine di leggere se mi hai fatto lo spoiler di come fisco un x-man che sto leggendo il pre-hickman giusto? si ma è Rosenberg è Rosenberg quello è Red Red Blue giusto? è quello di x-man Red x-man prima di quello prima di quello se che spoiler è gli x-man sono sempre stati in guerra no proprio a dire ma come fai interrompere una run con un cliffhanger non era un cliffhanger era la fine della sua run per dire siamo tornati siamo qua e gli umani ci hanno sempre odiati questo è il succo quindi ti vuoi leggere Age of X-Men ancora? che merda è andata così che vedevo di? i personaggi sì io non so come ma nessuno lo sa com'è morto Xavier non te lo dicono com'è morto Xavier non si vede com'è muore se te lo dicono così c'è rossi epatica non credo che sia stato ucciso mi pare riguardami l'episodio 1 ma ti dicono tipo la morte del professor Xavier ci ha segnati però non è che ti spiega è stato ciclope è stato ciclope no c'è il super complessone quando mi sta sul culo è un personaggio inutile è un personaggio preferito ti odio è morto di Alopecia possiamo dirlo ciclope non aveva ragione no 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 comunque come è andato qualcuno ha donato gli abbonamenti è una tristezza questa serata quanti sub abbiamo di vedere in meno quanti sub ci sono qua meglio che non le vedo perché siamo a 2000 sub ma è 127 pensavo peggio sono calati almeno ragazzi abbonatevi perché è importante per farmi pagare l'acqua sono realizzato la ciclope fino a Ultimatum che disintica la faccia di Magneto ogni volta non mi ricordo nemmeno cos'è Ultimatum Ultimatum era una saga di Ultimates se dove c'è stato il blob che si mangia non mischiamo la merda con il cioccolato per favore l'universo Ultimates non conta non è mai successo nell'universo Ultimates c'è Hulk che spezza in due Wolverine cosa che tra l'altro Percy ha appena scritto anche nell'universo normale perché Percy è un'universo aspetta ma Ultimates l'ha fatto scritto bene c'è stato tutto dal ciclo di Mark Miller l'ha scritto bene X-Men erano carucci dai erano remixati non siamo nemmeno mutanti siamo creati con un virus che boh fa cose e ci ha fatto sembrare mutanti ma scusami è normale che si staccasse la serie principale altrimenti che fanno fanno lo stesso cosa uguale lo spirito della primo Ultimat era esattamente quello ricreiamo le storie classiche con un approccio moderno quindi ci ispiriamo alle storie classiche ma ci sta poi farlo che è poi esattamente l'approccio opposto di questo universo Ultimat che adesso ci sono tutti i fan dell'Ultimat vecchio io ho ricevuto questo post lungo così di uno che fa io quando ero giovane leggevo Ultimat Spiderman ora che è tornato poi lo so che è diverso però mio Dio mi sono emozionato ma minchia è un personaggio che non c'entra niente con quello classico di Ultimat Spiderman niente non ha niente in comune perché è un altro universo cioè c'è il nome Ultimat poi Ultimat Spiderman a un certo punto schiattava e poi si tornava che era un clone non si capisce gli uomini sono la merda ah comunque prima parlavamo di viaggi nel tempo io ho deciso di non farlo perché non volevo intermettere nella cosa ma se volete delle bellissime magliette sui viaggi nel tempo come questa fantastica del dottor Wills Scott grande Scott la macchina del tempo sono il futuro pampling pelati e fumetti ok pampling pelati e fumetti mi raccomando usate questo non vorrete mica usare non vorrete mica usare il codice di Chirio non pronunciare il nome di Chirio in vano durante la pubblicità soprattutto quanto beve Fred se è un cammello io non bevo acqua questa in realtà è vodka in realtà è pipì io quello faccio prendere le bottiglie devo dire la tua urina non è male è che bevo molto per cui è molto no fai bene è molto sciolta è molto sciolta sì mamma mia molto diluita è una roba così vuoi una cacciavite? una cacciavite ti vuoi giocare a biliardo? no quindi andiamo a giocare a biliardo sabato? ma non per il cazzo no andiamo a giocare sabato a biliardo non voglio uscire di casa voglio uscire di casa sabato ma c'è il biliardo? no ma quando è che devo andare? a fare sta roba domenica prossima allora lo spiego venerdì 19 aprile sarò alla nerderia a Pavia dove dopo il film a coppia un'intervista su Ramiro che c'è anche Luca Albanese il disegnatore no se vuoi dire anche tu disegnatore farò un spettacolo di stand up di mezz'ora ok quindi venite c'è anche la mia stand up sarà fumetto il stand up alla nerderia Pavia venerdì 19 dove c'è polvere e fumetti dove c'è polvere e fumetti non posso stare in questa stanza invece sabato 20 saremo da What? Waste of Time in via 16 con Pelati e Fumetti che mi faranno una bellissima intervista ci sarà anche Luca Albanese per potervi schiacciare e parlare insieme di Ramiro dato che di loro non ho mi alleno per quando devo fare delle interviste veri devo trovare il mio format per le interviste qualcosa di interviste tipo veramente stronzo tipo ma sì sì dovresti fare così ma non con noi lo fai con un'altra persona una roba del tipo non lo so una roba del tipo ma allora mettiamo che tu hai fatto un manga italiano sì e l'hai fatto con la lettura alla giapponese ok ma esattamente cosa ti ha spinto a non usare la lettura che usiamo in occidente di farlo alla giapponese cioè tu non sei giapponese io lo so però devo dirti che secondo me per rispettare un pochettino lo spirito ho deciso di farlo alla giapponese è una scelta stilistica ok quindi non c'è stata una pressione dall'editore una pressione dal mercato no no è una scelta stilistica io mi sento di fare le storie in questo modo le scelte stilistiche sono rispettabili non convengo ma rispetto grazie ho trovato un punto di accordo non mi sembri così stronzo comunque dai no non sono stronzo mi viene difficile stare se stronzo con la persona che è davanti devo imparare sono di fianco di fianco non ti guardo ma sei una simpatica canaglia comunque oh e chat ti comunque su Tinder zio caro ma no non parlo con nessuna io vi faccio vedere anche perché mi allora generalmente su Tinder ciao bello che belli omnibus che hai ma manco quello nessuna mi ha mai scritto credo e di loro al massimo hai la cosa e poi sono o sono transessuali che ho iniziato per sbaglio e purtroppo non mi interessa cioè niente contro però se ho capito ma se loro non scrivono tu non scrivi come cazzo pensi vada avanti la discussione ma perché generalmente non mi interessano poi uno switch di quelli randomici e ti ma porca misè non ho mai avuto devi sistemare il tuo profilo avevo un amico che cuccava un sacco anche lui piacevano i nasi tra l'altro è una cosa caratteristica devi fare una roba adesso ti facciamo adesso la possiamo prima che fai il red carpet capito ti facciamo una foto quella del red carpet di Ghostbusters ma che bella era su Instagram l'avete vista se volevate ma che bella sembra che c'era una borsa di Gucci aspetta ti faccio vedere una cosa bellissima tu non hai visto il mio reel oggi no no mi faccio i cazzi miei ti faccio vedere anche a loro togli tinder ok per chi non l'avesse visto allora che allontano il microfono il sole a Milano come potete notare e motivo per cui la installazione di Ghostbusters non si è sciolta la potete vedere qua dietro non posso vedere c'è vero potete vedere dalla faccia ma non si è sciolta qualcuno sta cercando di romperla e portarsi via il ghiaccio prezioso ghiaccio degli studi andiamo a vedere mentre tutto crolla e si disintegra al mio spawn ciao aprile ci ha portato il sole a Milano come potete questo è il reel in cui ho taggato Sony perché Sony scusa ah perché Sony Pictures Sony Pictures e cosa hanno fatto gli Sony quando l'hanno visto niente non mi ha detto niente invasione di K un ride è un ride di Vito Iwara con 141 persone ma poi adesso abbiamo smesso di fare qualsiasi cosa interessante che potevamo fare solo per voi visto che siete arrivati vi faccio vedere il mio reel Vito spero tu sia ancora qua per vedere questo reel bellissimo aspetta che lo riavvio che brutto il sole a Milano come potete notare e motivo per cui la installazione di Ghostbusters non si è sciolta la potete vedere qua dietro un po' si vede come potete vedere dalla faccia ma non si è sciolta ora qualcuno sta cercando di romperla e portarsi via il ghiaccio prezioso ghiaccio degli studi andiamo a vedere mentre tutto crolla e si disintegra all'info ciao se tu sai che quello è un trapper famosissimo e mo ti fa un culo così ma io non gli ho censurato la faccia apposta mo ti distruggi ti divasta un brate Ramiro aspetta mo sei tu un frumento c'è Ramiro che parte non sono vera e poi allora ecco l'ho trovato l'ho trovato era così comodo da trovare Ramiro si si incredibile occhio alle mie varie di Spider-Man occhio alle mie cose non farle cosa hai fatto cadere ho fatto cadere lo schermino di un Game Boy no si la cellulina allora ma voi lo sapete è stato lo sapete che Vito neanche ha salutato cosa Vito neanche ci ha salutato Vito che vai via raccomando Ramiro il mio ultimo fumetto fai vedere tipo schizzi è molto bello questo fumetto è un fumetto edito da Santa per 20 euro 19,90 240 pagine ai disegni tante citazioni belle c'è anche Goku è divertente c'è anche Yoshi voi che siete un canale di videogames guardate ci sono giochi che prendono donne che si vestono lo sfondo di Sekiro è vero qua c'è uno sfondo di Sekiro c'è una situazione di Sekiro questo è lo sfondo di Sekiro volevo rappresentare in questa pagina qui il fatto che questa discussione qui Ramiro non la potrà mai vincere e quindi ho messo lo scontro l'inizio di Sekiro che tu non puoi vincere non puoi vincere non lo puoi vincere beh ti batte dopo però quindi mi raccomando chiedete alla vostra fumetteria alla vostra stamberia su Amazon sui computer potere pelato Ramiro una vita da lucertola comprate perché qua c'è scritto dietro è bello by le ortolani esatto le ortolani poi guardate se lo venite a prendere a Milano allora fanno lo sketch fanno lo sketch basta venire a Milano il 19 no 19 a Pavia la nerderia all 20 di aprile a what waste of time evviva ok ora puoi tornare a fare anche tu le marchette così finché non le prendiamo tutti ah proprio finito ce ne andiamo dobbiamo andare tu che fai stasera andiamo a birrificio ancora ora ma se è per tornato l'alcolismo è una brutta bestia freck io mi preoccupo ha più valore quella di freck tra contrario tra l'altro a me piaceva fare quelle c'è avuto uno squizzo tipo a ha messo una foto di Ramiro e ha cucchiatto tantissimo bravo bravo così bisogna fare io che avevo un profilo con la faccia di freck ho deciso su tinder non ti prego ho già mi sono fatto troppi nemici poi per te lo dico per te che ti mandano a fare in culo dopo tanto non ci vado anche questo è vero non ci parlo nemmeno gli rispondi sapete che sono dovremmo fare invece noi il ride del ride e sto pensando a chi fa un ride chi è retro traverna non ho la minima idea chi è camel su twitch ma che cazzo lo seguite non lo so camel su twitch non fa musica non ho la minima idea che è shuraida non so neanche quando me lo ho appena shuraida ma guarda ma che bello che bello qualche canale su cui ero che ha fatto il ride sicuramente camel su twitch è un tizio che fa musica no c'è Kenobit non l'ho visto c'è Kenobit sopra 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 e dice Kenobit sopra 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 e c'è Kenobit sopra sopra da Kenobit no da Kenobit dite tutti potere pelato è freg potere pelato è freg così dai sceliamo da Kenobit noi ci diamo fra due settimane sempre di mercoledì mi raccomando voi leggete non fate quelli che non leggono che brutta storia non leggere giusto non mi fate quelli che non leggono è molta brutta cosa dite freg è potere pelato mi raccomando fate i bravi sono a chiuso sicuramente come al solito ciao patati ciao 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 a tutti ci vediamo alla prossima live anche se sono coperto dalla chat ciao come si toglie qua così tutto